Da segnalare un terremoto di 7.7 che ha sconvolto la Nuova Caledonia. È un territorio ubicato nella parte meridiana del Pacifico, le isole Loiatwe situate di fronte alla costa orientale della Nuova Caledonia sono state colpite. Dopo il terremoto è stato diffuso un allarme tsunami, la Nuova Zelanda ha pubblicato, ha trasmesso l'avviso alla popolazione di spostarsi, di mettersi lontano dalle coste, quindi vicino all'acqua, rimanere lontano. Il sisma aveva all'inizio una magnitudine di circa 7.5 però poi è stata rivista la magnitudine e si è spostata a 7.7 come è stato confermato di recente. Allerta tsunami che non è rientrata, tsunami in arrivo, l'ordine di allontanarsi scrupolosamente dalle coste per evitare che si potesse verificare il padatrack. Bene, questo dunque è quanto, sarebbe quanto, vi ringrazio per l'ascolto, ripeto, terremoto di magnitudine 7.7 in Nuova Caledonia. Ciao a tutti dal vostro Leandro, narratore italiano di YouTube Italia.